ciao a tutti cari amici bentornati sul canale di madame crochet primo video del 2023 è un tag un tag che facciamo così per fare il bilancio della nostra situazione creativa dei progetti che abbiamo realizzato nel 2022 è un video che feci anche l'anno scorso se volete andare a vederlo lo trovate nella playlist caffè crochet mi sembra dell'anno scorso del 2021 anzi due anni fa del 2021 ed è un tag che io vidi sui canali francesi delle sferruzzatrici e uncinettatrici francesi però poi io l'ho modificato perché c'erano alcune domande che non non erano adatte diciamo a quello che a quella che è la mia attività e al pubblico italiano per esempio le sfide all'estero si fanno tante sfide per realizzare un tot di progetti in tot giorni cosa che invece qui in italia non non credo si faccia o almeno non ne ho mai sentito parlare nei canali di uncinetto e maglia italiani perciò io l'ho modificato ho diminuito il numero delle domande e quindi questo è un video tag targato madame crochet che potete fare anche voi sui vostri canali di creatività allora il titolo è domande per finire l'anno creativo per chiudere l'anno creativo 2022 prima domanda quanti progetti hai lavorato nel 2022 allora come al solito io non sono una tutta precisina chi si mette lì a contare tutto a catalogare tutto a tenere tutte le fascette dei filati a fare tutte queste cose non è proprio nel mio carattere essere troppo precisa e quindi non gli ho contati però su per giù posso dire di avere lavorato intorno ai forse 50 progetti più o meno contando anche i lavori piccoli per esempio le collane all'uncinetto tenete conto che io ho un negozio su etsy madame crochet atelier che prevede la vendita di prodotti fatti a mano che faccio io e quindi devo lavorare molto anche per il negozio quindi diciamo che tra fasce per capelli guanti cappelli collane e insomma piccoli scaldacogli commissioni e cose per me che ho fatto e che sono devo dire poche posso posso affermare di aver realizzato circa una cinquantina di progetti più o meno però non li ho contati seconda domanda primo progetto che hai lavorato nel 2022 e ultimo progetto allora il primo progetto sono sicura che fosse un che sia stato il maglione color ciclamino con la parte davanti ricoperta di noccioline che non avete visto o che forse avete visto di sfuggita in un video in cui lo stavo lavorando non lo avete visto perché poi l'ho regalato l'ho regalato alla mia mamma lei l'ha visto le è piaciuto le andava bene e quindi gliel'ho regalato quindi il maglione con le noccioline il primo progetto e l'ultimo la recentissima mantellina cannella che avete visto come tutorial come ultimo tutorial sul canale quindi quello quei due poi terza domanda quanti progetti voluminosi hai lavorato grandi progetti come non so coperte giacche maglioni cardigan importanti allora ho lavorato in tutto mi sembra tre progetti di cui due maglioni due sì forse due maglioni quasi tre perché uno lo sto finendo in questi giorni e un cardigan il cardigan famoso di michela e quello è stato veramente un grande progetto perché è un cardigan veramente molto molto grande è quasi un cappotto e tutto elaborato con tantissimi punti puff e quindi sì quello è stato un grande progetto quindi due maglioni e mezzo e un cardigan poi quarta domanda quanti scialli mi sembra cinque più o meno cinque sì due sicuramente li ho venduti uno è il bellissimo scialle che ho fatto per me con il punto ventaglio in moher che è un progetto che è un progetto di gloria pennati e gli altri due ah gli altri due sì adesso mi sono ricordata sono due scialli lavorati a maglia e uno è lo scialle orizzonti che avete visto sul canale e uno è un altro scialle semplicissimo appunto legaccio di cui non ho fatto il tutorial ma che ho fatto quest'estate che c'è anche in un video di caffè crochet di quest'estate un video chiacchiere che ho ripreso mentre appunto stavo lavorando quello scialle quindi cinque cinque scialli tre all'uncinetto e due ai ferri nel frattempo se sentite dei botti non fateci caso perché qui stanno ancora lanciando i petardi tirando i botti oggi è il primo gennaio e quindi i residui della della notte scorsa quinta domanda quanti calzini hai lavorato allora sui calzini andiamo male perché ne ho lavorati un paio all'uncinetto e mezzo paio ai ferri quindi purtroppo i calzini sono un accessorio che a me piace tantissimo mi piace un sacco vederli realizzati dagli altri mi piace mi piacerebbe averli perché io ho dei calzini fatti ai ferri che mi hanno regalato e che indosso sempre d'inverno li indosso sempre sopra la calza di cotone e mi tengono caldissimo e mi piacciono veramente tanto però per me non riesco a realizzarli perché non ho tempo perché do la priorità ad altre cose perché magari non mi vengono bene come vorrei i calzini ai ferri sono ancora lontanissima dal risultato dai risultati che vedo in giro che sono risultati pazzeschi veramente molto molto belli mi sembrano calzini fatti a macchina invece sono fatti ai ferri e quindi per me il calzino mi piace però è un argomento, un progetto frustrante e quindi non ne faccio ma vorrei farli quindi sarà un obiettivo del prossimo anno tenete conto che sono già due o tre anni che dico la stessa cosa e poi non riesco, vabbè sesta domanda quanti progetti hai fatto per te e quanti invece sono stati regali? allora diciamo che progetti per me ne ho fatti forse sì il maglione, lo scialle dicevo prima, i due scialli che poi in realtà progetti che io decido proprio di fare per me sono sempre pochi perché io ho i tutorial da fare e quindi lo faccio faccio questi progetti magari per realizzare un tutorial e poi il capo che esce magari me lo tengo oppure lo regalo e quindi difficilmente prendo un pattern oppure mi viene un'idea e decido di realizzarla per me l'ho fatto con il maglione brughiera che avete visto in tanti video perché lo indossavo lo sto facendo con il maglione che sto realizzando adesso che vi ho fatto vedere nell'altro Caffè Crochet e poi ho realizzato anche un top il top luna che è un pattern e qualche scialle qualche scialle, qualche no cappelli quest'anno per me non ne ho realizzati perché la maggior parte delle realizzazioni le faccio o su commissione o per il negozio o per i tutorial quindi progetti per me ne faccio pochi ne ho fatti pochi quest'anno questo è il motivo regali anche quelli ne ho fatti pochi perché non insomma non sempre vengono apprezzati quindi ho fatto i cuscini appunto granny che avete visto recentemente e il maglione il maglione con le noccioline che ho regalato alla mia mamma e quello è stato un regalo perché le piaceva e gliel'ho dato settima domanda quanti di questi di tutti i progetti che hai fatto erano progetti tuoi e quanti pattern che hai acquistato o preso gratuitamente allora non sono sicura perché anche lì non ho contato però i pattern che mi ricordo di aver lavorato sono stati solo due il cardigan di Michela e il top luna che è quello con le noccioline qui blu che avete visto su Instagram sulle foto su Instagram e anche quello è stato un pattern che ho fatto perché mi è stato regalato è stato un regalo di Pasqua e quindi l'ho fatto per me perché era della mia taglia è stato proprio un regalo per me quindi era la mia taglia e mi è piaciuto tantissimo e l'ho anche indossato molto quest'estate poi qual è stato il tuo evento preferito creativo chiaramente qui stiamo parlando di creatività quindi di maglia uncinetto cucito e quello che piace a voi se chiaramente fate questo tag sui vostri canali quindi il tuo evento preferito dell'anno allora sicuramente la fiera abilmente a Vicenza che sono tornata a visitare dopo un anno forse due dopo comunque lo stop dovuto alle restrizioni della pandemia e poi ci sarebbe stato un altro evento CNET Italia a cui avrei voluto tantissimo partecipare e avevo già progettato tutto avevo acquistato i biglietti avevo fatto tutti i miei programmi avevo addirittura acquistato i biglietti per due corsi due seminari che si tenevano durante questo evento però poi ahimè non sono potuta andare perché ero reduce di una febbre un'influenza che ho avuto ai primi di ottobre che poi si è trasformata tra l'altro in sinusite quindi è andata per le lunghe e quindi non ci sono andata perché quel sabato io avevo prenotato i biglietti per un sabato non stavo bene non me la sentivo proprio di andare e passare una giornata fuori quindi quindi nonostante avessi comprato i biglietti pagato e progettato tutto non ci sono andata e quindi vabbè peccato perché era il primo anno che questa fiera si teneva in un posto vicino relativamente vicino a casa perché si teneva si è tenuta all'onigo in una bellissima villa che è a 40 minuti da qui in treno forse anche meno e quindi era comodissima rispetto alle altre volte in cui si teneva mi sembra a Firenze e però vabbè è andata così poi nona domanda ecco questa è per per tutti voi che avete i canali di maglia uncinetto cucito e creatività in generale come è stato il tuo anno in rete il tuo 2022 in rete allora il mio è stato diciamo un anno senza infamia e senza lode il canale Madame Crochet ha continuato nella sua lenta crescita e io ho contato in un anno 6.000 iscritti in più e comunque è stato un anno positivo perché abbiamo superato i 30.000 iscritti però diciamo che è andata meglio l'anno scorso ho avuto più iscritti l'anno scorso quindi quest'anno un po' così c'è stato un po' di rallentamento e inoltre la cosa negativa che ho notato è stata un un calo dell'interesse verso i tutorial cioè su 30 30 quasi 34.000 iscritti quando io faccio un tutorial un tutorial che comunque mi costa molto tempo sono ore 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 di lavoro per realizzare un progetto perché spesso io il progetto per fare il tutorial come nel caso della mantellina dell'ultima mantellina cannella che avete visto l'ho fatto due volte quindi una prima l'ho fatta per vedere come veniva una l'ho fatta per il tutorial poi durante le fasi di realizzazione devo registrare e poi circa ho impiegato circa tre ore un'intera serata per il montaggio quindi il tempo è tanto e tutt'oggi a qualche giorno dalla pubblicazione questo tutorial ha più o meno 2500 visualizzazioni che sono molto poche sono molto poche però in generale sui canali di maglia e uncinetto ho visto un calo generale dell'interesse per il tutorial forse ce ne sono tanti è vero che ce ne sono tantissimi è vero che magari non è più come i primi anni e non è più come quando due anni fa stavamo tutti in casa a causa del covid e quindi si sferruzzava si guardava youtube si facevano tutte quelle attività casalinghe adesso si esce quindi magari la gente anche chi uncinetto è sferruzza sta poco a guardare un tutorial però effettivamente durante una discussione qui virtuale con amici colleghi diciamo youtuber che sono questi colleghi sono max e Manu e vi saluto si diceva che fare tutorial si è bello però il gioco non vale più tanto la candela perché il tempo che si impiega è veramente tanto e poi tra lo scarso interesse e la maleducazione di certe persone e le richieste assurde i commenti sciocchi o denigratori o maleducati che vengono scritti sotto passa veramente la voglia a me all'inizio fare tutorial piaceva tantissimo adesso ne faccio molto molto meno perché perché come diceva max a volte ci sono certe domande e certe pretese da parte di alcune persone espresse in modo così maleducato che ti fanno passare la voglia manca solo il fatto che queste persone ti dicano ok fammelo tu il lavoro me lo devi fare tu e anche alla svelta con questo tono capito ci sono talmente il mio concetto di tutorial non è è quello di fare un lavoro in cui chi è dall'altra parte rimane passivo e segue così ipnotizzato quello che io faccio e lo riproduce in modo perfetto uguale ma il mio intento è quello di dare uno spunto quindi spesso io non dico il tipo di filato non dico do solo un'indicazione sulla taglia non dico tutte le misure perché se noi guardiamo e seguiamo alla lettera un tutorial che ci dice tutto tutte le misure noi lavoriamo con lo stesso identico filato lo stesso identico uncinetto cioè a mio parere è come seguire un pattern acquistato non non impareremo tanto velocemente a essere indipendenti nella lavorazione di un progetto perché è come se io è come quando la maestra scriveva alla lavagna delle frasi e gli alunni noi alunni copiavamo pari pari quello che c'era scritto alla lavagna senza neanche leggere e capire quello che c'era scritto ci limitavamo a tracciare dei segni sul foglio e copiare è la stessa cosa è la stessa cosa quindi io preferisco dare degli spunti quindi fare vedere come si fa una lavorazione e poi infatti nei tutorial vi dico magari come ricavarvi la vostra taglia perché chiaramente non cioè io non mi metto a fare un tutorial per tutte le taglie perché sarebbe impossibile esistono dei metodi e in alcuni tutorial li spiego per prendere per prendere le misure e ricavarsi la propria taglia per quanto riguarda i filati che mi chiedete sempre poi fate il progetto con un filato e mi dite ah ma non mi è venuto come il tuo per forza perché usate altri filati ma questo è giusto perché io non voglio fare dei tutorial che promuovano per forza l'acquisto di certi filati o del filato che ho utilizzato io perché spesso io utilizzo dei filati che avevo in casa che avevo lì da due tre anni quattro che mi sono stati regalati dei filati di recupero di cui non ho più le fascette non so più non so più il metraggio non so più i grammi e quindi anche voi magari avete in casa dei filati che possono andare bene per quel progetto e che però non sono uguali al mio quindi a me non piace dire dovete acquistare per forza questo filato quantità di gomitoli da lavorare con questo uncinetto con queste 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 misure perché mi piacerebbe che le persone diventassero indipendenti fossero capaci di realizzare lo stesso progetto o magari prendere spunto da un mio progetto con un filato che hanno magari a casa senza spendere soldi o un filato di recupero oppure anche un filato che poi comprano ma magari è diverso dal mio e quindi questo è il mio intento perciò poi quando io mi vedo commenti del tipo che come ho visto qualche settimana fa da parte di una signora il tutorial è impreciso non ho capito niente è impreciso perché non dici i metri tra l'altro i metri che noi utilizzeremo non sono uguali per tutte le taglie quindi io in quel tutorial ho fatto un progetto specificando che a seconda di come si faceva lungo il poncio questo poncio poteva andare bene per una bambina o per una persona adulta quindi se io lo faccio per una bambina di tre anni non utilizzerò i metri lo stesso metraggio che utilizzerò per una persona adulta alta un metro e settanta questo mi sembra chiaro quindi quando io vedo queste domande queste puntualizzazioni mi mi passa la voglia di fare il tutorial un po' di iniziativa un po' di di voglia di fare da sé di voglia di imparare di creatività vorrei che le persone la mettessero quando vedono un video e rifanno un mio progetto a me non interessa che i progetti che faccio io vengano copiati identici senza cambiare una virgola mi interessa dare uno spunto promuovere la creatività promuovere l'uncinetto non mi interessa che il mio progetto venga fatto uguale identico con lo stesso filato lo stesso metraggio cioè voglio dire secondo me è una cosa che non non ha senso quando parliamo di creatività e di lavori manuali ognuno ci deve mettere del suo un po' di creatività se no cosa stiamo qui a fare non siamo a scuola a fare un esercizio di matematica che deve venire il risultato deve essere quello e deve essere uguali per tutti se no è sbagliato questo è quello che penso bene dopo questa spiegazione enorme sui tutorial che però volevo volevo dire visto che volevo specificare visto che questa domanda era relativa all'anno in rete ecco queste sono state le mie impressioni dell'anno siamo andati forse un po' lunghi un po' fuori tema però questo lo volevo dire allora decima domanda quale corda nuova al tuo arco questa era proprio una domanda che c'era anche nel nell'altro video quale nuova corda al tuo arco allora quest'anno nuove corde sono state poche devo dire forse la più la più importante la più bella è stata la partenza del progetto trame di lana di cui vi ho ampiamente parlato su questo canale e non ve ne riparlo ancora se no sono noiosa e quello è un progetto che è diventato concreto che ho concretizzato che ho tirato fuori dal cassetto e quindi questa è stata la nuova corda al mio arco è una corda che vorrei espandere anche per il prossimo anno poi numero undici il progetto che hai amato di più lavorare allora sicuramente mi è piaciuto tantissimo lavorare i cappelli ricamati con la lana cardata con il ricamo ad ago che avete visto in qualche video e anche i guanti che ho messo nel mio negozio e che non ci sono più perché li ho venduti quelli sono stati proprio mi hanno dato tanta soddisfazione e mi è piaciuto lavorare e poi lo chalet asimmetrico in mohair e lana che anche quello è finito suezia ed è stato venduto uno chalet semplicissimo asimmetrico proprio semplicissimo che parte da una punta si allarga e e poi diventa grandissimo e tra l'altro c'è il tutorial sul canale è un vecchio tutorial e e quello mi è piaciuto tantissimo non tanto per il punto perché era tutto realizzato in semplice maglia alta ma per gli accostamenti dei filati e dei colori e il mohair con la la lana il filato queen di Lollocrea ha creato dei giochi di colori e di trasparenze veramente belli e quindi mi è piaciuto molto dodicesima domanda il progetto che vorrai rifare sicuramente un altro chalet in mohair la cosa che mi fa un po' ridere è che nell'altro video nel video dell'anno scorso dicevo che il mohair è un filato che non mi piace e invece quest'anno l'ho scoperto ne ho ne ho apprezzato le potenzialità meravigliose il calore la morbidezza il fatto che è così leggero e da da questi effetti di trasparenza che è diventato il mio filato preferito e quindi vorrò sicuramente realizzare degli altri capi uno chalet sicuramente in mohair e infatti tredicesima domanda specifica il tuo tipo di lana preferito di quest'anno e il mohair sicuramente il mohair e le lane rustiche mi piacciono le lane un po' grezze un po' irregolari non troppo lucide mi piacciono tantissimo per gli effetti che creano e anche come come scorrono nelle mani mi piace un po' meno mi piacciono meno le lane merino quindi quelle tutte perfette regolari lucidine quelle quest'anno non mi piacciono tantissimo secondo me sono molto adatte ai principianti perché scorrono bene non danno problemi però io quest'anno preferisco altri tipi di filato quindi filati pelosi mohair che prima odiavo e lane rustiche irregolari ultima domanda quale sarà il primo progetto 2023 allora sicuramente una mantellina cannella color carta da zucchero azzurro carta da zucchero che mi è stata commissionata dopo aver visto quelle che ho fatto nel tutorial la persona non ha voglia di rifarla e quindi me l'ha commissionata e quindi quella e avrei voglia di fare un maglione un maglione in mohair semplicissimo non so ancora se ai ferri semplicissimo a maglia rasata oppure a maglia alta l'uncinetto molto molto semplice però bello soffice leggero e caldo questi sono i due progetti che ho in mente per iniziare il 2023 bene questo video è stato lunghissimo però le domande erano tante mi sono contenuta non ho parlato non ho raccontato tutto quello che avrei voluto perché altrimenti diventa una cosa noiosissima inguardabile quindi se avete dei canali e mi seguite e volete fare anche voi questo tag fatelo e poi taggatemi e voi amiche che non avete un canale amiche e amici se volete commentate qui sotto rispondete magari a una di queste domande se vi fa piacere vi ringrazio vi saluto e vi auguro ancora un bellissimo e creativo 2023 ciao a tutti